ciao pescatori appassionati di mare e lure builder benvenuti in questo nuovo video nel video di oggi vi parlerò della gomma siliconica che ho utilizzato per creare lo stampo bivalva del georai intro sia per i materiali dello stampo come per la quantità di microsfere che ho utilizzato durante i video sono stato fortemente criticato per quanto riguarda la gomma siliconica sono stato fortemente criticato perché non adeguata o non adatta secondo alcuni costruttori però a questo ci arriviamo dopo intanto spendo due parole su questa gomma siliconica la gomma siliconica è quella di cui vi ho parlato nel video di antichi tab e il sito la r tv htr ovvero è una gomma siliconica con uno shore abbastanza elevato ed è una gomma siliconica resistente alle alte temperature io inizialmente la utilizzavo soltanto per la creazione dei metal jig è un'ottima gomma e lo stampo non si degrada molto molto in fretta perché colata dopo colata lo stampo inevitabilmente andrà a degradarsi quindi dopo un tot di stampi sarà necessario ricostruire rifare da capo lo stampo questa è una cosa inevitabile sia con questa che con altre tipologie di gomme siliconiche ad alte temperature o non ad alte temperature quello che ho notato di bello di questa gomma siliconica è che lo stampo dopo tantissime colate ad alte temperature riesce a mantenere ugualmente e i dettagli ovviamente entro un certo limite possa arriva un punto in cui è necessario rifarlo però c'è una gran bella durata questa gomma siliconica ha bisogno del suo catalizzatore che va miscelato al 5 per cento quindi se utilizziamo 100 grammi di gomma siliconica dovremmo mettere insieme e miscelare il 5 per cento quindi 5 grammi di catalizzatore sarà necessario mescolarla per qualche minuto e poi sarà colabile il suo tempo di lavorabilità è di circa 30 minuti quindi avete tutto il tempo necessario per colarla per realizzare lo stampo tanto alla fin fine come avete visto nel video se vi preparate la scatolina io ho utilizzato il lego in questo caso e vi preparate tutto una volta che l'avete miscelata siete già pronti quindi la lavorabilità di questa gomma siliconica qui è più che abbondante come tempo di sformatura generalmente io la lascio 12 ore quindi in genere colo la prima valva per dire la sera la mattina poi la sformo ripreparo per rifare l'altra valva ricolo e la sera quindi il giorno dopo ho le due valve pronte per essere utilizzate questo è un accorgimento mio anche se non sarebbe necessario una volta che ho fatto le due valve non vado a fare i pezzi direttamente con la resina e non vado a collare subito il piombo ma le lascio riposare ancora un giorno questa gomma siliconica qui non ne ha bisogno però ho notato con altre gomme siliconiche che se appena sformate appena fatte vai a mettere subito materiale ad alte temperature diciamo che ne soffre subito la gomma quindi le lascio ormai per abitudine riposare ancora un giorno e poi inizio a colarci il piombo per i metal gigo a farci pezzi in resina perché l'ho utilizzata anche per la resina semplicemente il suo shore che se non erro è di 45 è uno shore abbastanza elevato rispecchiava le caratteristiche che a me servivano per realizzare il gerai e comprando questa gomma siliconica qui questo che vedete ora è il barattolino da un chilo però in genere la compro in barattolini da 5 kg avendone in quantità ho fatto l'abitudine uso quasi sempre questa gomma siliconica qua utilizzo invece la classica gomma siliconica se invece ho delle forme un pochino più particolari da realizzare se no per quello che è necessario per realizzare un vtd una stick bait o un darter le caratteristiche tecniche mi vanno più che bene queste qua della gomma siliconica htr avendo questa in casa ho utilizzato questa anche se molti costruttori non la trovano adatta fondamentalmente andando bene per le mie esigenze non ci trovo nulla di male a utilizzarla bene pescatori appassionati di mare e l'ur builder il video finisce qui se vi è garbato lasciate un like se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale se vi va condividete i video su social network dove siete iscritti così si fa crescere il canale i commenti sono sempre a vostra disposizione se ci avete domande o dubbi scrivete pure io appena posso leggo e vi rispondo attivate la campanella così tutte le volte che pubblico un nuovo video vi arriva una notifica a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video ciao